Ciao a tutti amici miei, oggi è arrivato un pacco co co co, si tratta infatti del mio silver button, un oggetto che desideravo davvero da molto tempo e sono qui pronta per spacchettarlo quindi ho deciso di spacchettarlo, di aprirlo in modo ASMR ASMR ciao a tutti follettini e follettine, bentornati in questo nuovissimo video ASMR slime, oggi faremo la ASMR con questo slime che avevo fatto tempo fa, iniziamo Siete pronti a godervi questa esperienza insieme a me? Sticcazzi, se non lo siete lo farò comunque e quindi ecco il pacco co 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 Viva in your bed Adesso Giovanni senza voce e Alfredo Siete pronti